Musica Nuova importante vittoria dei comitati riuniti, delle associazioni e dei gruppi civici che da mesi si oppongono in modo costruttivo all'ipotesi di tracciato ANAS prescelto quale l'8C di variante Sud. Dopo il risultato epocale, unico in Abruzzo ottenuto presso il comitato Via, che ha indetto l'inchiesta pubblica, i comitati e le associazioni plaudono l'importante risultato ottenuto presso il Consiglio Comunale dell'Aquila, che riunito ieri all'unanimità ha votato la mozione depositata dai consiglieri comunali Periglia e Massocco e sottoscritta da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione, che in sostanza ribadisce la netta contrarietà a tutte le ipotesi di variante sinora proposte dall'ANAS e promuove e venga costruito un reale processo partecipativo che conduca a un'effettiva co-progettazione del tracciato con le comunità locali attraverso metodi codificati di partecipazione. Con questo passaggio si segna un epocale cambio di marcia nelle aule del Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza e opposizione decidono in sostanza all'unanimità di superare le vecchie logiche dell'emergenza impositiva e contraria a ogni normativa comunitaria, che richiedono invece per questo genere di opere infrastrutturali così importanti un reale coinvolgimento delle comunità locali, attraverso un'attenta valutazione di impatto sociale e ambientale, supportate da una valutazione ambientale strategica che sappia analizzare l'opera, calandala nel contesto economico, culturale e sociale, specifico nei territori coinvolti dell'intervento, rispondendo realmente attraverso una pianificazione integrata e negoziata ai fabbisogni delle popolazioni locali nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e dei siti di interesse archeologico e storico-culturale. I comitati invitano ora il sindaco Ciolente a rispettare la volontà espressa all'unanimità dal Consiglio, perché questa sia correttamente rappresentata nei prossimi tavoli tecnici con il Cipe, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione e l'ANAS. Più nel dettaglio si chiede che il processo partecipativo sia di fatto regolamentato, come indicato dai protocolli internazionali e prescritto dalle normative vigenti, e guidato da un'attenta valutazione ambientale e sociale, come giustamente sottolineato e messa a verbale durante il dibattito consigliare, dal consigliere di maggioranza Enrico Perilli. Come è noto, la Giunta Comunale ha da poco espresso con una delibera alla numero 219 del 27 maggio, parere favorevole alla proposta di cambio di destinazione d'uso di una parte del capannone ex Sercom, che si trova a pagliare di sassa. Il Consiglio di partecipazione numero 3 di sassa, però, dopo una lunga discussione e dopo la richiesta del Comune di un parere consultivo, ha fatto emergere molti dubbi e criticità sulla proposta di cambiare la destinazione d'uso da commerciale direzionale ad uso industriale. Una storia infinita per un'eterna incompiuta che già ci ha abbandonata ormai da anni. La cittadinanza ritiene quell'area sprovvista innanzitutto di servizi per nucleo industriale di tipo residenziale e con una viabilità già molto critica nella zona di sassa. In sostanza il CTP ritiene che la zona non può accogliere un sito industriale senza impatto sulla residenzialità e sull'ambiente. Si tratta poi di un'area vicina a vincoli paesaggistici e a ridosso di case sparse, di progetto case, di paesi come Genzano, Pagliare e Palombaia di Sassa. Il Consiglio si chiede pure come mai un'area che a vocazione di residenzialità e buona qualità della vita non venga ridefinita all'interno del piano regolatore. Ad oggi peraltro non si conosce un nome certo di un'azienda che sia interessata e il Comune non ha neanche chiarito su eventuali interventi che intenda fare sul territorio per rendere l'area sostenibile ad un tale cambiamento, né si hanno garanzie sulle ricadute occupazionali. Il Consiglio di partecipazione, alla luce di queste riflessioni, ha rinnovato l'invito al Sindaco Cialenti a parte della Giunta di presentarsi in assemblea pubblica per discutere del futuro dell'Exercom e anche del piano case immediatamente adiacente. Per mesi se ne è discusso, si sono rincorse voci, proteste e manifestazioni dei comitati e associazioni, ma alla fine il Consiglio Comunale ha posto la parola fine, che però propedeutica ad un nuovo inizio, sulla vicenda di Porta Barete, una delle mura urbiche della città, rinvenuta dopo i lavori di ricostruzione post-sisma. L'intera area sarà interessata da uno dei progetti di riqualificazione urbana più imponenti e ambiziosi dell'amministrazione comunale, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio Comunale, espressosi in maniera favorevole all'accordo di programma stipulato da Comune, Provincia e Ater. Un progetto di dimensioni enormi, che si articola in diversi step. Dei cinque edifici che insistevano nel quartiere di Santa Croce, ne verranno ricostruiti soltanto tre, più a monte e non in situ, per la scelta di alcuni proprietari di accettare l'acquisto equivalente. Al posto dei palazzi verranno realizzati parcheggi e aree verdi, a ridosso delle mura urbiche. Verrà abbattuto il ponti di via Vicentini, con il terrapieno che sarà riportato a raso. Per accedere al centro città, dunque, si percorrerà via dei Marsi, che verrà allargata e adeguata. A Santa Croce, invece, si accederà dalla via omonima. L'area di Villa Gioia verrà ripensata e, lì dove era l'ex istituto magistrale, verrà dislocato il condominio che, fino al 6 aprile 2009, sorgeva a Civico 207 di via Roma. I proprietari dovranno accettare il trasferimento o, eventualmente, esercitare il diritto di permuta o la possibilità dell'acquisto equivalente in via eccezionale e anche per le prime case. Gli inquilini del 207, insomma, dovranno rassegnarsi a trasferire le proprie abitazioni di qualche centinaio di metri in linea d'aria dalla zona in cui sorgevano prima del sisma per far spazio ad un complesso piano di recupero che, oltre alla riscoperta della porta urbica, porterà ad una valorizzazione delle mura cittadine al centro di un complesso progetto di riqualificazione peraltro già attuato in diverse aree. Il 14 giugno all'Aquila sarà celebrata la giornata mondiale del donatore del sangue, una giornata importante che, in vista dell'estate, serve soprattutto a sensibilizzare ancora una volta sull'importanza della donazione. In Abruzzo, infatti, è spesso emergenza sangue, dunque benvengano tutte le iniziative volte a supportare questa emergenza, che con la stagione estiva si fa sempre più pressante. Alla luce delle nuove normative europee, peraltro, è necessaria la riorganizzazione della rete trasfusionale della regione Abruzzo. La giornata del 14 sarà importante per parlare della donazione del sangue in Abruzzo. La sala convegni dell'Ordine dei Medici, dalle 16 alle 19.30, ospiterà il convegno sulla giornata mondiale del donatore. Parteciperanno l'Avis comunale con la sua presidente Maria Rita Cassiani, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il presidente dell'Avis regionale Giulio Di Sante, il presidente dell'Avis provinciale Antonio Giulianella, il direttore del centro regionale sangue Pasquale Colamartino, il dottor Luigi Dell'Orso, primario di medicina trasfusionale dell'ospedale dell'Aquila, e Luciana Celeste, che parlerà dell'esperienza del Servizio Civile Nazionale e del volontariato in questo senso. La tavola rotonda finale sarà aperta a tutte le associazioni del territorio. Domani l'Aquila Calcio ricapitalizzerà davanti al notaio. Questa è la decisione presa nel corso della riunione di ieri tra i soci. Si parla di circa 400 mila euro per finire la stagione e cominciare a programmare già la prossima. Non era presente Davide Iannini, che dovrebbe diventare il nuovo socio. Domani, ad ogni modo, dinanzi al notaio, si capirà di più. 400 mila euro che si aggiungono ai 150 mila già deliberati, un passaggio fondamentale per riprogrammare e ridefinire i nuovi assetti societari. I tifosi chiedono però a gran voce delle novità dal punto di vista tecnico, che ad oggi non ci sono, mentre molte squadre, ad esempio, hanno già scelto il nome del prossimo allenatore. Evidentemente la società sta sondando il terreno prima di formare la squadra, anche per valutare un possibile ripescaggio, ma su questo fronte c'è da dire che le speranze sono ridotte davvero all'omicino. Per ora due le incognite più grandi, la scelta del nuovo allenatore e la posizione del DS Alessandro Battisti, ancora non chiarita e con due anni ancora di contratto. Si è parlato di Meco Monaco sulla panchina aquilana, ma per ora si tratta solo di rumors, di voci, insomma, non confermate dalla società. Intanto, perché qui riguarda lo stadio di Acquasanta, ieri mattina è arrivata la firma del contratto per l'installazione delle telecamere. La ditta che ha vinto l'appalto, la SAIS SRL, oggi ha iniziato i lavori e dentro 28 giorni dovrà consegnarli al Comune. La ditta che ha vinto l'appalto,